Maria! Maria! Fatti vedere! Vieni qua! Che stai a fare qua? Ma come ti è venuto? Ma adesso ci vede mio padre! Sono venuto a trovarti Maria! Perché ti voglio bene assai! E perché ti volevo vedere prima di arrivare alla taverna a Mambredonia! Devo chiedere la grazia a Sanna Machele che mi deve far trovare un lavoro perché ti voglio sposare, voglio avere tanti figli! Tu l'unica grazia che devi chiedere a Sanna Machele è che non ci vede mio padre che sennò andiamo freschi tutte e due prima tu e poi io! Manico, vattene! Vattene! Ti voglio bene! Maria ti voglio bene! No! Che cosa la fionda? La fionda per i bambini cattivi Tu bambini cattivi o sei? No! Come sei? Buon! E allora la fionda nix! E allora la fionda per i bambini cattivi si chiamati! E allora! Che i bambini cattivi e si chiamati a te bambini! Grazie a tutti.